Benvenuti ad una nuova puntata di Salute nella quale ci occuperemo del Bra Day. Finalmente nel 2021 torna questa importante manifestazione per informare le donne che hanno subito un intervento più o meno demolitivo al seno sulle possibilità di ricostruzione. Siamo in compagnia del nostro ospite, il professor D'Andrea, al quale chiediamo di commentare questa edizione 2021 del Bra Day. Il Bra Day è ormai un evento che si ripete da alcuni anni in tutta Italia, direi in tutto il mondo, è lo stesso giorno in tutto il mondo ed è il terzo mercoledì del mese di ottobre. Una giornata che è volutamente imperniata sull'importanza della ricostruzione mammaria dopo tumore al seno. È una giornata che ha come obiettivo quello di informare, informare ovviamente le pazienti ma anche coloro i quali nell'ambito del mondo degli addetti ai lavori non conoscono le attuali possibilità che noi possiamo offrire come chirurgia plastica per questo tipo di problema. Quindi il Bra Day è un open day che dà la possibilità a tutte le donne che hanno voglia di informazioni di recarsi presso i nostri ambulatori. Questo succederà il 20 ottobre dalle 10 alle 14. È un ingresso libero, gratuito dove potremmo dare tutte le informazioni e anche le consulenze necessarie per quello che riguarda questo progetto di ricostruzione mammaria. Professore, a volte diamo tutto per scontato, ma perché per le donne è così importante partecipare al Bra Day? L'importanza della partecipazione è legata alla consapevolezza che si può oggi ricostruire una mammella dopo un tumore. Tante donne non lo sanno e si abbandonano alla cura della malattia che consiste nella maggior parte dei casi ad una demolizione chirurgica della mammella e si fermano lì nel percorso terapeutico. Questo non può più avvenire nel contesto di una medicina moderna che deve prevedere non solo la cura della malattia ma anche la qualità della sopravvivenza. È proprio su questo aspetto che incide la ricostruzione mammaria e quindi ruota il Bra Day, e cioè l'importanza della ricostruzione per completare un percorso terapeutico che non sia soltanto di demolizione ma anche di ricostruzione, che poi è una ricostruzione sia fisica che anche ovviamente conseguenzialmente psicologica. Professore, ci sembra di capire che il processo della ricostruzione è un processo complesso, ma a quali professionisti ci si deve affidare? Il senologo, l'oncologo, il chirurgo plastico? I professionisti coinvolti nel contesto della cura del tumore al seno sono tanti e da questo nasce poi il concetto breast unit, cioè unità senologica, perché andiamo da quelli che si occupano della prevenzione, della diagnostica, a quelli che si occupano della cura, fino ad arrivare poi agli oncologi, ai supporti psicologici. Insomma, sono tanti professionisti che si dedicano in maniera specifica al problema cancro al seno. Nell'ambito del Bradei, quelli che saranno i protagonisti della giornata sono ovviamente i chirurghi plastici, cioè coloro che sono deputati alla ricostruzione del seno dopo il cancro e saranno a disposizione di tutti per dare tutte le informazioni necessarie che le donne vorranno chiedere. Professore, non fa mai male ripetere quale può essere la prevenzione per il cancro al seno? La prevenzione è fondamentale, così come lo è per tante malattie, ancora di più nell'ambito del cancro al seno. Noi se oggi riusciamo a fare una diagnosi precoce abbiamo la possibilità di una prognosi ottima, quindi questa malattia che una volta era un disastro oggi, diciamo, in tanti casi può essere curata. Per cui è importante che i territori, attraverso le ASL, attraverso i loro distretti, continuino le campagne di screening che vengono fatte e che il Covid purtroppo in parte ha affermato. Questo perché possono poi essere in collegamento con noi, che siamo delle strutture di livello superiore, dove poi si prende in carico il paziente e si esegue tutto ciò che è necessario al fine di curarli in maniera completa, quindi dalla diagnostica, dalla cura della malattia alla cura della sopravvivenza. E noi adesso siamo in chiusura, ringraziamo naturalmente il nostro ospite, il professor D'Andrea, ma vi lasciamo con la testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle questa esperienza. Noi ci vediamo la prossima settimana. Allora, io sono stata operata a maggio del 2021 e in quadrantectomia della mammilla destra. La cosa importante che voglio lasciare come messaggio è la mastopesi di adeguamento controlaterale, nel senso che il tumore viene rimosso, ma in contemporanea, in cui la sede, comunque l'altro seno ti viene adeguato. Anche se vivi uno shock, un trauma nella diagnosi di carcinoma, questo viene superato, perché comunque rivedi i tuoi seni e non solo li rivedi, ma li rivedi anche belli. E il tutto viene superato, il tutto viene superato. Questo è il messaggio che io voglio lasciare alle donne. Non temete nel momento in cui vi arriva una notizia di carcinoma. Siate forti, positive, perché in un policlinico del genere di Napoli, che non si direbbe, si pensa sempre ad altro, scappare e andare al nord. No, in questo senso io mi sono trovata benissimo, veramente tanta professionalità. Io dalla radiologia sono passata direttamente in chirurgia plastica, rimosso il tumore, seno adeguato all'altro. Quindi è un'esperienza favolosa che la voglio anche archiviare, voglio vedere solo le cose belle di quello che ho superato. Grazie a tutti.